Grazie. Grazie fortissimo alla Presidente Elisabetta Armiato per aver organizzato questa conferenza e per l'enorme lavoro dei dieci anni che hanno svolto come associazione Pensare Oltre e che ci hanno regalato, perché io ho avuto modo di conoscere questa splendida associazione che si occupa seriamente di quello che è il vissuto dei minori. E ringrazio per questo anche il Dottor Spavone per avermi dato l'opportunità già nel primo convegno che è stato svolto e al quale abbiamo partecipato a Milano. Ed ora questo secondo appuntamento è importantissimo perché questa volta abbiamo un testo, abbiamo un testo da riportarci, un testo che racchiude tutta quella saggezza, scusate ma mi viene veramente da dire questo termine, saggezza umana che è emersa in questa conferenza stampa e che nasce dall'attenzione seria e dall'attenzione profonda che si ha verso il mondo infantile. Io sono perfettamente in linea con quanto è stato esposto sia dal Dottor Spano che dal Dottor Cestari, perché sicuramente stiamo vivendo una situazione stravolta di quello che è la didattica e l'attenzione scolastica ai problemi dell'apprendimento in generale. Sicuramente l'apprendimento è una realtà molto complessa e la possibilità di mettere in atto un apprendimento lineare dipende da tanti fattori. Giustamente il professor Spano lo spiegava bene che ci possono essere interruzioni dovute a un passaggio da una tipologia di didattica di un insegnante ad un'altra perché c'è uno spostamento di un trasferimento da una scuola ad un'altra o ci possono essere delle incompatibilità tra la modalità di apprendimento di un bambino e la didattica dell'insegnante che hanno davanti. Ci sono vari fattori, ma non possiamo escludere che ci sono anche fattori emotivi. Io aggiungerei questo, anche l'aspetto emotivo, relazionale, che viene intaccato molte volte da un vissuto familiare non sereno. E questo non viene preso in considerazione. O meglio, quando viene preso in considerazione, il bambino viene medicalizzato e i genitori allontanati. Allora c'è anche questo aspetto molto pesante della gestione dell'interesse verso il percorso scolastico del bambino. Il percorso scolastico del bambino deve essere reso il più possibile agevole e accogliente, nel senso di dare a ciascuno tutte le opportunità di sviluppo e di apprendimento secondo le sue potenzialità. Ovviamente non tutti diventeranno degli abili in matematica e degli scienziati, non tutti diventeranno dei letterati, però bisogna saper dare e saper riconoscere a ciascuna, a ciascun bambino, quindi a ciascuna persona in crescita, lo spazio adeguato per poter vivere, imparare e usufruire al meglio del periodo dell'apprendimento, del periodo scolastico, che poi in realtà non finisce mai, perché anche la Presidente può continuare ad approfondire temi di matematica. Non finisce mai, non è possibile dare dei termini. Detto questo, possono esistere delle difficoltà reali che i ragazzini incontrano per vari fattori, senza dubbio, ma medicalizzare, come ci ha spiegato benissimo il Professor Spano, è un atto... Professor Cestari, è un atto veramente di andare oltre, ma in quel senso non è pensare oltre, è andare oltre quello che è la medicina, perché effettivamente lesioni dimostrabili non ci sono. Allora, se non ci sono, esiste la didattica e soprattutto esistono altre figure, oltre lo psicologo, oltre lo psichiatra, andiamo oltre anche in questo, perché abbiamo inserito all'interno delle scuole le diagnosi di psicologi e psichiatri, ma non abbiamo ancora all'attuale inserito la figura dell'educatore pedagogista. Io questa figura l'avevo inserita in un ordine del giorno in merito al disegno di legge sul cyberbullismo, perché le problematiche anche relazionali, appunto, di ragazzi che mettono in atto comportamenti gravissimi, come quelli del bullismo, vanno affrontati anche con una prevenzione, con una presenza di un educatore pedagogista che si occupi delle dinamiche relazionali che a volte sono alterate sin dagli anni più tenera infanzia. Però, ecco, l'educatore pedagogista è nella direzione di quello che ci propone pensare oltre, perché è giusto che la didattica venga approfondita. La didattica ha un'ampia possibilità di intervenire, di modulare l'intervento del processo di appredimento e insegnamento, perché è possibile mettere in atto una serie di strategie didattiche che passano moltissimo per l'utilizzo dell'arte, perché la musica, perché il contatto con la natura, come ci ha detto benissimo la Presidente, la possibilità, io direi anche, di avere una maggiore consapevolezza dell'educazione all'immagine, il teatro, il cinema, sono tutte strategie e sono tutte realtà, quelle date dall'arte, che possono offrire ottimi strumenti agli insegnanti che vogliono interfacciarsi con i propri alunni, non nella dimensione della classificazione, ma nella dimensione dell'aiuto allo sviluppo di ciascuno di loro, nel rispetto della personalità e delle potenzialità e usufruendo proprio di altre possibilità, che non siano la medicina, perché poi si arriva all'aberrazione, nel caso delle facili, purtroppo, e anche quelle aumentate, di agnosi di ADHD, all'aberrazione di somministrazione di psicofarmaci ai minori. E su questo io attendo ancora risposte dalla Lorenzin, perché l'interrogazione gli è stata fatta, risposta scritta, sin dal 2014. Ora l'ho trasformata a risposta orale in commissione il 12 gennaio del 2016, abbiamo avuto l'audizione in commissione infanzia e adolescenza della Lorenzin, a tutt'oggi non c'è stata data risposta su questo, perché i casi sono veramente in aumento, ma non abbiamo chiarezza né di quanti siano, né di quanti bambini in Italia siano sotto somministrazione di farmaci, non c'è chiarezza del fenomeno ed è preoccupante proprio nella dimensione di una diagnosi che viene fatta in modo non chiaro e soprattutto senza una certezza scientifica di un danno fisico.